Anche quest'anno la Record Store Day si celebrerà in due date diverse. La giornata dedicata ai negozi di dischi indipendenti si svolgerà sia il 12 giugno che il 17 luglio. In vista dei prossimi appuntamenti con la manifestazione sono stati rivelati i titoli delle quasi 400 pubblicazioni in uscita per questa quattordicesima edizione. Tra questi ci saranno album mai pubblicati prima. Rarità ma anche alcune novità. La lista completa è disponibile sul sito recordstoredayitalia.com Grazie a tutti.